Pavimenti pregiati di marmo rosa pavonazzetto e verde cipollino e mura ben conservate. Una bellezza che sorprende. Sono solo alcuni dei ritrovamenti mostrati durante lo straordinario appuntamento svoltosi domenica a Fano, dedicato ad un luogo di eccezionali scoperte. Si tratta della visita guidata al cantiere aperto presso gli scavi di Vitruvio, dopo la scoperta dei resti di un imponente edificio pubblico ipotizzata alla Basilica di Vitruvio, citata nel De Architettura dell'architetto romano. Organizzatore della visita culturale, la sovrintendenza delle Marche, che ha dato la possibilità di far conoscere a 120 cittadini e non solo agli addetti ai lavori, ambienti sconosciuti e soprattutto tenere alta l'attenzione sull'importante rinvenimento. Relatrici d'eccezione, le archeologhe Venanzoni, Aguzzi e la restauratrice Agostinelli. L'area di cantiere dove abbiamo lasciato aperti appositamente alcuni saggi di scavo, in cui era possibile vedere gli ambienti di questo edificio pubblico, che alcuni ipotizzano possa essere identificato con la Basilica, ma che comunque è un edificio di notevole importanza in ogni caso, quindi muri, pavimenti, un po' proprio la realtà di lavoro archeologico. Di questi non tutti stamattina era possibile vederli, per motivi di sicurezza li abbiamo fatti vedere due in modo abbastanza completo, gli altri li abbiamo un po' fatti intuire. Quali sono le cose che sono state scoperte di recente? La cosa più recente è stata la tomba di epoca medievale, che abbiamo scoperto addossata a quello che abbiamo chiamato il vanoà, dico medievale perché abbiamo ritrovato una moneta al suo interno, che non abbiamo ancora ripulito, ma sembra databile, comunque al pieno medioevo, quindi adesso ipotizzano 1200-1300. Saranno previste altre visite? Stiamo lavorando per riaprirlo, perché sono state veramente tante le richieste che ci sono arrivate, veramente è arrivato qualche centinaio di mail, quindi purtroppo non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste. Questo ci dispiace, per cui stiamo lavorando per fare nuove aperture, quindi consiglio di seguire un po' i nostri canali social, su cui daremo aggiornamenti su nuove aperture. Tra i recenti ritrovamenti anche due scheletri, per ora al vaglio di studi e ricerche, che potrebbero fornire ulteriori indicazioni verso nuove scoperte. Denominata la Pompei di Fano dal sottosegretario della Cultura Sgarbi, in visita nel mese di agosto, gli scavi potrebbero rappresentare un'ulteriore importante attrazione per la città della fortuna, come ha sottolineato il sindaco Seri. Diamo la possibilità ai fanesi, alle persone che sono qua, di poter visitare questi scavi. Ovviamente ancora sono piccoli scavi, piccole testimonianze, ma di grandissimo valore, ma che ci dimostrano che c'è altro, e anche la prosecuzione ha dimostrato che ci sono altri pavimenti, altre cose interessantissime. Quindi è bello perché queste cose sono dell'umanità, vanno condivise e oggi ci sono tante persone sold out che hanno chiesto di poter fare questa visita per essere consapevoli del patrimonio straordinario che abbiamo in questa città. Ovviamente è anche un impegno a trovare ulteriori risorse. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo già messo delle risorse a disposizione per far procedere il prima possibile. Sono arrivate anche risorse del Ministero dei Beni Culturali, ma ora è importante che sia un impegno vero del Ministero con risorse significative per poter fare ulteriori scavi importanti e portare alla luce tutto quello che c'è sotto questa zona che si unisce, non dimentichiamolo, con il Teatro Romano, l'Anfiteatro Romano, il Tempio e la Basilica di Vitruvio.